ciao ragazzi sono stefano di ermut in questo video vi parlerò di bird cream si presenta come un prodotto in crema 3 in 1 indicato sia per capelli barba e pelle è ricco di principi attivi tra i tanti troviamo il bisabololo che è un estratto della camomilla e ha un forte potere lenitivo l'olio d'argan bio e l'aloe vera che assicurano un'azione anti arrossamento e anti age infine troviamo la vitamina e che contrasta l'invecchiamento dei radicali liberi come lo utilizziamo applichiamo una piccola qualità di prodotto sul palmo della mano e distribuiamola su capelli barba o pelle è importantissimo dopo la detersione affinché si ripristini l'equilibrio idrolipidico della pelle bird cream è disponibile in due versioni 100 200 ml grazie a tutti